Oggi siamo in due, come potete vedere qui sotto c'è un ospite che ci accompagna perché per una partita del genere ha vinta una sensazione così bella di giorno dopo serve per forza di cose essere in due, quindi Ragù è venuto a salutarci. Allora ragazzi oggi voglio partire con le pagelle, poi ci sarà anche l'analisi della partita, oggi pomeriggio ma ricordatevi che a ora di pranzo ci sarà pure l'estrazione di Champions League ed Europa League e quindi sapremo il nome della squadra che andremo ad affrontare nell'Europa B diciamo così e quindi dopo ne parleremo magari insieme in un video domani, cercheremo di analizzare un attimo più a freddo la situazione perché oggi in realtà vorrei rimanere concentrato sulla bella vittoria. che abbiamo fatto ieri contro l'Inter, bella non magari tanto sul punto di vista del dominio della partita e robe del genere ma bella per il morale, bella per quello che significa e proprio da quello che significa poi voglio ripartire anche analizzando la prestazione di Allegri. vi consiglio di scaricare numero 10 dal link che trovate qui sotto in descrizione, fatelo assolutamente perché questa applicazione vi aiuterà, vi aiuterà alla grande anche in previsione del mondiale che sta iniziando, mancano soltanto due partite di Serie A e poi salutiamo la Juventus, appunto il post partita di Elas Verona Juve sarà su numero 10, non lo troverete appunto sul mio canale YouTube, è un contenuto esclusivo sul canale, lui invece uscirà un altro contenuto. voglio prima di tutto parlare dell'episodio del gol annullato a Danilo di ieri sera, perché? Perché penso che se ne stia parlando tanto, secondo me oggi invece dobbiamo essere contenti di esserci lasciato alle spalle. io ieri sera vi dicevo che secondo me alla fine, rivedendo un attimo le immagini, è giusto annullarlo. Confermo quello che ho detto. Poi, se dobbiamo parlare di un regolamento assurdo, possiamo aprire una parentesi e di questo possiamo parlare, ma questa non è una cosa che abbiamo già detto, credo, numerosissime volte, almeno personalmente, del fatto che ci siano delle regole un po' rivedibili o di un protocollo VAR decisamente rivedibile. beh, questo l'ho già detto mille volte, però regolamento alla mano mi è sembrato abbastanza giusto, in realtà, annullare il gol di Danilo. Qualcuno mi parlava di rigore per il braccio di De Vrij, il braccio di Danilo tenuto fermo dal braccio di De Vrij. Io ribadisco sul calcio d'angolo, secondo me, quelle cose avvengono spesso e volentieri. La leggo così, in questo modo. Per fortuna, non è stato un episodio che poi ha costato la Juventus, la partita, o comunque dei punti lasciati per strada, come magari è stato quello con la Salernitana. Quindi, guardiamola in questo modo, cerchiamo di prendere il positivo da questa situazione, invece che la polemica, perché, secondo me, essere, non lo so, avvelenati anche oggi, farsi il sangue amare anche oggi, in un momento in cui il tifoso della Juventus dovrebbe soltanto essere contento di riuscire ad avere questo attimo di respiro che è mancato da tanto tempo. Beh, credo che questa sia la cosa più importante in assoluto. E allora cerchiamo di andare subito avanti, e quindi Pagelle di Juventus-Inter 2-0. Max Allegri 6,5. Allora, qua voglio aprire un attimo una discussione, voglio ragionare un attimo insieme a voi, perché? Perché già ieri mi sono arrivati, vabbè, non mi sono arrivati, ieri ho letto tantissimi commenti che purtroppo non andavano nella direzione di gioia della Juventus, era la solita guerra intellettuale tra sostenitore di Allegri e contestatore di Allegri, e sinceramente questa cosa stancato è quando si vince un big match dopo 15 mesi appunto dal ritorno di Allegri in panchina, c'è da essere contenti e basta. Cioè è inutile girarci intorno, non c'è da parlare di tanto altro, c'è da essere contenti e basta, perché l'Inter l'anno scorso ci ha battuto 4 volte su 4, e di questo dobbiamo, anzi 3 volte su 4, perché non abbiamo pareggiato, quindi non abbiamo mai vinto e portarci a casa 3 punti contro l'Inter invece è una boccata d'ossigeno secondo me indispensabile. Qualcuno mi ha scritto spero che tu possa non cambiare idea su Allegri, qualcuno mi ha detto chiedi scusa da Allegri, ragazzi, ormai è una mia crociata personale, bisogna imparare a scindere la prestazione singola dal contesto, dal generale, impariamo, impariamo questa cosa. La Juventus rimane in difficoltà, in grossa difficoltà, non è che se vinciamo uno scontro diretto allora abbiamo sistemato tutto, lo dicevo anche ieri sera, bisogna riabituarsi al fatto che questa sia la normalità, l'eccezione non è una cosa eccezionale aver vinto contro l'Inter, è diventata una cosa eccezionale perché non vincevamo uno scontro diretto da 15 mesi, 20 forse, 18, questa è diventata una cosa eccezionale, questa è resa una cosa eccezionale, ma ieri sera è stato un semplice scontro diretto, una semplice partita tra Juventus e Inter, come se ne sono giocate un milione, una partita che vale tre punti, tre punti pesanti perché sia Juventus che Inter è una condizione in classifica scomoda, abbastanza poco divertente, diciamo così poco simpatica, vale tre punti, per la Juve vale qualcosa di più perché c'è lo scontro diretto, poi per quanto riguarda Allegri secondo me c'è da fargli complimenti perché ha la quarta vittoria consecutiva, la Juventus comunque è quattro gare che non prende gol, nelle quattro vittorie non ha preso gol, ha interrotto la striscia dell'Inter di 24 gare a segno continuamente, poi qua un pizzico di fortuna perché l'Inter poteva fare gol, ma non l'ha fatto, poi alla fine del calcio è contro il macro, contro quello che dice il tabellino, quindi la Juventus è riuscita a portare a casa la vittoria, su Allegri ho ancora tanti dubbi perché ci sono secondo me alcune cose che hanno portato a una situazione imbarazzante in precedenza e questa è la situazione normale in cui la Juve vince e quella di prima era la cosa che si contestava, il 4-4-2 storto con McKennie esterno, la presenza di McKennie invece che quella di uno tra fagioli miretti o entrambi, come sta accadendo adesso, la fragilità mentale con cui la squadra andava in campo e cercava di difendere anche contro il Monza per poi perdere la partita, la poca sfrontatezza con cui si affrontava una squadra in difficoltà come la Sampdoria, di aver lasciato punti per strada, il fatto di giocare a corrente alternata, questa è ancora una cosa che purtroppo è rimasta, infatti secondo me questa è la grande cosa da contestare ad Allegri ieri sera, l'aver buttato via un tempo, perché la Juventus ieri sera ha letteralmente buttato via un tempo, che se l'Inter va sul 2-0 come probabilmente avrebbe meritato nel primo tempo, poi non so come va la partita, poi la partita non è andata così, perché poi il piano di Allegri, perché a questo punto il piano di Allegri ha funzionato, siamo riusciti con 2-3 ripartenze, 2-3 strappi di Kostic a riportare il pallone in avanti nella zona di competenza dove fa più male agli avversari e con i cambi di Chiesa e di Maria abbiamo portato a casa la partita. Quindi il piano ha funzionato, Allegri sarebbe stato probabilmente da 7 in generale per quella che dovrebbe essere la valutazione, io abbasso di mezzo punto per due motivi, il primo tempo non mi è piaciuto, lo torno a dire, il primo tempo purtroppo non mi è piaciuto, ma non sono qui a dire che dato che non mi è piaciuto il primo tempo e avrei cambiato l'allenatore dopo il Monza, Allegri merita l'insufficienza, capite che è un discorso paradossale, un discorso vergognoso, non avrebbe senso. Lo abbasso perché secondo me, per quello che è stato il primo tempo di Juventus Inter, l'Inter ci ha messo sotto in qualche occasione e meritava, almeno un gol lo meritava, se non due, poi diventa una partita diversa, una partita più complicata, per fortuna non ha influito, ma nel processo di crescita, nel percorso di crescita di questa squadra bisogna andare avanti. Aggiungo che Allegri ha un merito che non ho detto ancora fino a questo punto, lo dirò poi quando parleremo di Kostic, secondo me 6 e mezzo è la valutazione giusta, ma ribadisco, voglio che questa vittoria venga assorbita dal popolo juventino, che venga goduta dal popolo juventino al di là delle idee, perché dopo il fischio finale e il giorno dopo, oggi bisogna veramente godersi il momento, e allo stesso tempo, e so che è complicato perché sono due cose in contrapposizione, stiamo parlando di uno simoro, farsela scivolare via, perché sono solamente tre punti con l'Inter. E lo so che solamente tre punti con l'Inter in questo momento la Juve in realtà è una montagna da scalare, ma dobbiamo ricominciare a vedere le cose come sono realmente, e non per come lo sono diventate per noi. Quindi godiamocela, stragodiamocela, ma allo stesso tempo impariamo, rimpariamo, ricominciamo a vederlo come un semplice match che vale tre punti, che ci siamo goduti fino alla fine. Questo sì, ma un semplice match rimane. Cesni 6 e mezzo perché la parata su Cialanoglu da fermo, la parata su Lautaro Martinez dopo l'errore di Rabiot. Cesni ieri sera ci ha messo due o tre volte i piedi, probabilmente anche un tiro dalla distanza parato con le mani e poi finito sui piedi, e ci ha salvato, ci ha strassalvato. Quindi 6 e mezzo, una buona prestazione da parte di Cesni, perché se l'Inter non fa gol, un po' di sfortuna e di imprecisione da parte loro, ma anche il nostro portierone, e quindi buona prestazione. Molto sì, Alessandro che secondo me è il peggiore della catena difensiva a tre, è un po' impreciso, un po' impacciato, però secondo me non insufficiente. Torno a dire quello che sto dicendo da un po' di partita a questa parte, Alessandro in quella posizione sembra aver ritrovato fiducia in se stesso, nelle sue capacità, e quindi siccome la sufficienza se la merita, forse un pochino tiracchiata, però clean sheet, non me la sento di dare un'insufficienza a uno dei tre centrali. 6 e mezzo Danilo, poteva essere decisamente di più con il gol, del suo gol ho già parlato, ho già spiegato le mie motivazioni, non voglio tornarci sopra, ieri capitano al posto di quadrado, scelta curiosa, scelta che però condivido, perché Danilo mi sembra veramente molto più leader rispetto al Panita, e in questo momento difensore, anzi giocatore, uomo, diciamo uomo molto importante per questa Juve, all'interno del campo e fuori dal campo, quindi Danilo è personaggio importantissimo per questa Juventus. 7 e più a Bremer, che è dei tre il più mostruoso, cioè si era pure fatto male, ma ha deciso di rimanere in campo, poi vedremo se tutto è sistemato, magari era stato solo un po' di paura iniziale, ragazzi Bremer ha fatto una partita mostruosa, nel primo tempo è l'unico che ci prova andando in avanti a fare l'attaccante, tirando in mezzo la rovesciata, ma poi fa il suo ruolo, cioè il difensore centrale, il gol del 2-0, nasce da una chiusura mostruosa, monumentale, si è mangiato veramente l'attacco dell'Inter, Bremer ha fatto la miglior prestazione da quando è arrivata la Juve probabilmente ieri. 7 e più, poteva giocarla dall'altra parte, questa partita l'ha giocata da noi, e centrale della difesa 3, non me ne voglio a Bonucci, ma Bremer è tutta un'altra storia. Ne parlavo inizio anno, ricordo che il mio terzetto difensivo era composto da Bremer centrale, Danilo a sinistra e Gatti a destra, e invece Alexandro si è ritagliato lo suo spazio e si è creato questo terzetto verde-oro, e molto bene, più di così non so che altro dire, perché Bremer al centro della difesa è un giocatore clamoroso, veramente clamoroso. Quadrado, voto 6, pelo più vivo rispetto al Quadrado di questa stagione, anche col PSG non mi era dispiaciuto, ieri sera comunque, secondo me, non una prestazione perfetta, e infatti nel primo tempo abbiamo giocato tanto su Quadrado e non abbiamo cavato fuori quasi niente. Secondo tempo abbiamo iniziato a giocare su Costi, c'è si vista la differenza di un giocatore che in questo momento ha gamba e di un giocatore che in questo momento non ha gamba, però secondo me Quadrado il 6 se lo porta a casa, anche se è stato un pelo pasticcione, quindi più sulla falsa riga di Alexandro. 6 e mezzo Locatelli, che era stato secondo me il migliore in campo con il PSG, ma anche ieri sera ha fatto una buonissima prestazione, fatto di giocare con Rabiot e Fagioli, secondo me lo sta esaltando, perché questo centrocampo cazzo se funziona ragazzi, funziona al 100%, l'abbiamo visto col Paris, l'abbiamo visto con l'Inter, secondo me tra Paris e Inter abbiamo veramente dominato il reparto, quindi molto bene così, un po' meno appariscente rispetto alla Champions, ma una buona prestazione solida, e sono contento perché Locatelli si è mangiato tanto di quella merda ragazzi, in questo periodo che la metà basta, perché non è scarso Locatelli, mettiamocelo in testa, non è scarso, non è un fenomeno certo, non è pirlo certo, ma non è scarso, giocatore molto molto importante per la Juve, è uno che si è mangiato la merda, è questo qui, questo qui si è mangiato la merda, perché questo ha avuto le palle di mettersi in gioco, di inseguire un sogno, questo ha avuto le palle davvero, di rinnovare anche a scatola chiusa con la Juventus, è rimasto in extremis, quando tutti eravamo convinti potesse partire, addirittura il giorno della cessione Zaccaria dico, bene, perché così si cercherà di valorizzare Fagioli, che rimarrà la Juventus, e poi non si è più visto per non si sa quante partite, non si è proprio lasciato da parte, e allora il pensiero, il mio pensiero era, vuoi vedere che non è pronto per la Serie A? No lo è, no sai ragazzi se lo è, questo qua, tra Lecce che te la risolve, Parigi che fa, PSG che fa una partita camorosa, camorosa e ancora una volta il secondo gol, questo si è messo pure a fare gol ragazzi, giocatore clamoroso, davvero che ha aspettato il suo momento da gobbo vero, ed è venuto fuori, partita sontuosa, sontuosa di Fagioli che sbaglia pochi palloni, e poi riesce anche a trovare il gol del 2-0 che chiude la partita, punto gara incontro. Ragazzi che altro vi devo dire? Io ribadisco, questo stava in panchina, giocava a McKennie, o addirittura a Paredes, che non ha mai fatto minimamente una partita che si potesse avvicinare allo standard qualitativo di Fagioli, ma ribadisco, cioè io dico, esagero, anche quelle due volte, tre forse volte, in cui abbiamo visto Rovella nel precampionato, anzi nel campionato estivo con ancora il mercato aperto, secondo me Rovella in quei pochi minuti, ha dato dimostrazione di essere un giocatore con una voglia e una grinta, che Paredes fino adesso non mi ha ancora dimostrato, o me l'ha ancora dimostrata, e questo deve veramente avvicinarci a un cambio di tendenza inerente ai giovani, perché quando l'altro giorno Allegri diceva, in questo momento fuori i titolari e ci sono i giovani che li possano sostituire, ma non è vero mister, ma per l'amor del signore mister, ma no, ma guai a Dio, non c'è scritto da nessuna parte, non è il regolamento, che si tornano quelli che hanno un nome più importante e gioca a loro, cazzo Fagioli si è conquistato sul campo, il posto da titolare, se l'è conquistato andando alla Cremonesa l'anno scorso, facendo la maniera in Serie A, venendo eletto miglior giovane del torneo, se l'è conquistata con le convocazioni nazionali, con il rinnovo d'amore, d'amore, atto di fede, rinnovo d'amore con la Juventus, e rimanendo alla Juventus, per giocarsi le sue carte, guardate cosa ne è venuto fuori, mister, insistiamo su sta gente qui, te lo chiedo per cortesia, te lo chiedo per favore, usciamo da uno schema mentale, magari arretrato, magari non più, come una volta, non mi interessa, oggi ce li abbiamo, oggi sono pronti, oggi vanno fatti giocare, Nicolo Fagioli è uno di quelli che mi ha fatto giocare, è il Ducarabio al quinto gol, in stagione, non so che altro dirvi, non so come altro spiegarvelo, si è fermato dal far solo doppiette, ieri ne ha fatto solo uno, mi ha fatto un gol, ragazzi col destro, che c'è lui è mancino, quello è piede debole, non lo faccio neanche io col destro, perché io sono scarso, non gioco in Serie A, quindi è ovvio che, però, proprio per passarvi il concetto del grado di difficoltà di quel gol, bravo, un errore, un erroraccio da matita rossa, con retropassaggio, dove poi si esalta Scesni, l'ha fatto apposta, per far alzare il voto al compagno, vecchio cuore bianconero, ragazzi, 7 e mezzo a Dinamite Kostic, e da oggi sarà Dinamite Kostic, allora, qua torna fuori quel discorso che facevo prima, del pro a favore di Allegri, che fino adesso non avevo ancora tirato fuori, l'insister sulla difesa 3, perché, io lo ammetto, ma lo sapete, chi ha visto i video lo sa, non ero per la difesa 3, no, perché, vabbè, io ho un preconcetto sulla difesa 3, a me non fa impassire, proprio come modo di giocare mi fa impassire, perché è un modulo un po' piatto, vada a piattire un po' la fantasia, secondo me, dei calciatori, crea meno duelli individuali, crea meno uno contro uno, però noi siamo una squadra che su uno contro uno non va, e quindi forse, per questo diventa l'abito adatto, rimango dell'idea che serva un giocatore a destra, e con un giocatore di riserva a quadrado, anzi, un giocatore titolare che possa far diventare quadrado la riserva, diciamola così, che spero possa arrivare a questo punto nel mercato di gennaio, a meno che non venga promosso un giocatore dell'under, magari Barbieri, che era entrato anche col PSG, chi lo sa, perché a questo punto, magari ben venga, invece che andare sul mercato a investire, ce ne abbiamo uno, boh, Giocamo, che quadrado va in scadenza l'anno prossimo, e ha già fatto abbastanza, però Dinamite e Kostic, ragazzi, anche lui, un po' troppo contestato, io l'unica cosa che continuavo a dire a Kostic era, impreciso, 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 ma che questo giocatore fosse in grado di creare azioni pericolose, ma questo era palese, lo diceva al suo curriculum, lo sta dicendo il suo rendimento in campo, aggiungo una cosa, il passaggio alla difesa 3, perché lo voglio dire su Kostic, perché Kostic all'inizio viene schierato come Ala nel 4-3-3, o come esterno alto nel 4-4-2, non si trovava bene quest'uomo, questo è in esterno da difesa 3, e facendo così si è andato a monopolizzare il talento di Kostic e di Bremer, gli hai elevati, perché loro sono abituati a giocare così, ora viene il bello, tra virgolette, perché con il ritorno di chiesa di Di Maria, o giochi con chiesa di Maria come nel finale di ieri sera, però poi ci sono Vlaovic, Milik, cioè Moise Ken, questi dove li ficchi, come ti metti, è ovvio che sono armi a partita in corso, quindi io ipotizzavo un chiesa che potesse giocare a destra al posto di quadrado, però anche ieri Allegri ci ha dimostrato che lui chiesa lo vede avanti, quindi vediamo che cosa succede, ma Dinamita e Kostic ragazzi, due assist e un palo, che cosa gli vuoi dire a sta partita qua? Cioè tu la vinci per Kostic, questa partita tu la vinci per Kostic, senza Kostic non la vince sta partita, le tre occasioni grandi della Juventus sono firmate Filippo Kostic, MVP in assoluto, della gara e nella difesa 3, si trova a suo agio, Miretti 5 e mezzo, un po' impreciso è, il Mirettone oggi secondo me non arriva al 6, non arriva alla sufficienza, però ci stanno le bocciature, bocciature nella singola partita, perché anche qua ribadisco, abituiamoci a prendere in considerazione la singola partita e il contesto, Miretti 5 e mezzo, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto per niente tanti palloni persi, però ribadisco su me, in appoggio a un'unica punta nel 3-5-1-1 fa molta fatica, quindi o si alza un po' Fagioli a dargli una mano e si mettono due trequartisti, o Miretti diventa una mezzala nel 3-5-2 e si aggiunge un'altra chiesa di Maria Vlaovic, o due se si vuole sostituire Milik, perché se no si fa un po' fatica. e 5-5 Milik è che ragazzi io d'attaccante amatoriale sono spesso abituato a fare le partite di Milik, dove la palla non arriva mai, dove non tocchi quasi mai il pallone, quindi mi fa tra virgolette un po' pena, perché ieri sera si è giocato in 10, perché la palla proprio non militava mai dalle parti di Milik, e mi dispiace, cioè 5 perché viene fuori dalla partita, ma se no gli si può dar 6, perché lui non ha mai avuto modo di incidere, però secondo me è anche un po' troppo isolato, perché cercava di isolarsi lui, mai ad attaccare la profondità, mai a venire incontro per raccordare bene, io non so quanti palloni abbia toccato Milik, credo erano due a fine primo tempo, sarà arrivato a 4, a 5, a 6, non lo so, non ve lo so dire, però ieri un po' assente, diciamo così, infatti poi Allegri lo sostituisce con Federico Chiesa, che prende 6 per il suo ingresso, ancora una volta aggrintoso, anche questa è una lettura di Allegri, che in diretta avevo detto, eh che cosa fa? Poi col senno di poi ci penso un attimo, perché lì per ridico non teniamo più sul pallone, infatti poi eravamo andati tante volte sull'esterno, non crossavamo perché non c'era nessuno a riempire l'area, però Milik ieri sera effettivamente molto fuori dal gioco, e serviva quella garra che Federico Chiesa ha innata, cioè c'è poco da fare, questo ce l'ha innata. Angel Di Maria invece si becca il suo senza voto, perché non ha fatto chissà che cosa, io concludo le pagelle ringraziandovi, perché il video ieri sera è andato molto bene, la live reaction è uscita questa mattina, ora vi porto le pagelle, e poi invece stasera parleremo dell'analisi, dell'analisi della gara in generale, tramite il match report, e se vogliamo, dai, allora facciamo così, due paroline sul sorteggio le dico, oggi pomeriggio, va bene? Vi ho convinto, dai.